Ciao ragazzi, sono Fulvio Mariola. Oggi andiamo a vedere come installare Notepad++ e XAMPP. Una spiegazione breve di cosa sono Notepad++ e XAMPP. Notepad++ di fatto è un file di testo, quindi è un file nel quale quando io lo apro non posso scrivere nient'altro che testo. Allora voi mi direte, vabbè ma esiste anche Word ad esempio per creare del testo. Sì è vero, Word però non è un programma, non è un editor perché Notepad è un editor. E invece Word è un programma di videoscrittura, è ad esempio come potrebbe essere un qualsiasi altro file di tipo PDF. Anche PDF è un programma di videoscrittura. Magari voi lo leggere solo, però se si compra la versione di scrittura si può anche scrivere un PDF. Però non è un editor. Word non è un editor. Notepad++ è un editor. E in effetti dopo vedremo perché è un editor, per quale motivo è un editor. XAMPP è un software nel quale quando noi lo installeremo troveremo all'interno degli altri software. Cioè è un software che comprende diversi software che ci servono proprio a simulare quello che è un server. Che cos'è un server? Un server è una macchina simile più o meno alla nostra, però più grande, però più simile a un PC piuttosto che a un portatile, che sta in remoto, sta su internet e può contenere ad esempio i nostri siti web. Adesso andiamo a vedere l'installazione e vedremo dopo come installare. Ok, come prima cosa apriamo il nostro Chrome e siamo sulla pagina di Google, quindi come prima cosa installiamo Notepad. Download Notepad Lui già ce lo scrive, ma non lo completiamo. Andiamo all'interno del nostro sito web E qui ci dà una serie di versioni release, sta per rilascio, quindi sono una serie di versioni che vengono create per il nostro software Notepad++. Voi mi direte perché diverse versioni? Non basta una sola versione? È chiaro che non basta una sola versione, perché man mano che andiamo avanti i nostri computer si evolvono, I nostri sistemi operativi si evolvono e quindi i software, anche se sono solo editor, però si devono evolvere, devono migliorare in qualche modo e ci devono rendere la vita più facile. Allora noi installiamo l'ultima versione, Notepad++ 7.8.5 Come vediamo qui si può installare una versione download a 32 bit x86 oppure una versione download 64 bit x64 Chiaramente noi avremo tutti un sistema operativo a 64 bit E per questo installeremo proprio questa versione a 64 bit Voi mi chiederete qual è la differenza fra un 32 bit e un 64 bit? Ok, la cosa non è banale diciamo, non è difficile ma neanche facile E' solo che se noi abbiamo un sistema, ormai i sistemi operativi sono quasi tutti a 64 bit E' chiaro che se per caso voi doveste avere un sistema operativo a 32 bit Ovvero che significa che quando installate questa versione di download E vi dà degli errori e vi dice guarda non riesco a installarlo Allora magari chiedetemelo in basso dove potete mettere i vostri commenti E mi dite guarda non sono riuscito a installarlo, come posso fare? Intanto noi prima scarichiamo la versione di download Scarichiamo la versione di Notepad++ Installer Come vediamo in basso a sinistra lui la sta scaricando Ok, andiamo Facciamo con quella freccia che è vicino al nostro programma che abbiamo appena installato Mostra nella cartella, quindi ci mostrerà la cartella dove lo ha appena scaricato E lo ha scaricato proprio nella cartella che si chiama download Infatti se vediamo qui in alto User Admin Download Perché a meno che non l'abbiamo impostato in maniera differente Però Chrome ce lo installa in automatico in questa cartella Ok, adesso Allora Possiamo installare il nostro software Il nostro Notepad++ Possiamo cliccare due volte sopra questo pulsante Come vediamo è un punto exe Però io faccio tasto destro E esegui come amministratore Perché comunque ci vogliono i diritti di amministrazione Per installare non questo software Ma qualsiasi software noi installiamo sul nostro sistema operativo Windows 10 Allora È chiaro che quando voi dovete installare un software A meno che non è vostro Il computer è proprio vostro Non è di qualcun altro E voi non siete utenti Ma siete amministratori Quindi per voi la cosa è abbastanza banale Andate avanti E lo installate E se invece avete dei problemi Magari chiedete Non so Chi è il titolare di questo computer O ai vostri genitori Per Per poter installare questo software Ok Ci da una breve presentazione Andiamo avanti Queste sono Dichiarazioni Da licenza Di questo software Anche se la licenza È libera È gratuita Però anche le licenze Gratuiti Comunque Hanno Dei termini particolari Delle Diciamo Delle restrizioni particolari Accetto Mi dice di installarlo In quest'altra cartella A me Sta bene Se a noi non ci sta bene Potremmo digitare su sfoglia E installarlo E installarlo dove vogliamo Ma a me sta bene Qui Vado avanti Mi dà delle cose Da fleggare O defleggare Quindi fleggare Così Defleggare così Ma a me Vanno bene Quelle che lui mi dà Di default Non ho particolari Di cose Da fare Poi qua mi dice Create shortcut On desktop Io direi proprio Di cliccare qui In modo tale Che crea Una cartella Scusate Qui una cartella Crea un'icona Direttamente Sul nostro desktop Se no Ogni volta Che lo dobbiamo partire Senza aprirlo Da qualche altro Ma lo vogliamo aprire Così in maniera Per aprirlo E basta Lo dobbiamo andare A ricercare Invece in questo modo Metterà un'icona Sul nostro desktop Installa Ok L'installazione È stata eseguita Correttamente Qui ci dice Un altro flag Esegui notepad Bla 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 Io lo lascio Fleggato Perché Voglio vedere La presentazione Di notepad Cioè come è fatto Ok 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 bene Questo qui È notepad È una versione Più evoluta Di notepad Classico Di microsoft Infatti Questo qui Si chiama notepad Più più Qual è il valore Aggiunto Di questo software Il valore aggiunto È che Quando noi Ad esempio Dobbiamo digitare Del codice Da scrivere Ad esempio HTML CSS JavaScript O qualsiasi Altro linguaggio Quando noi Scriviamo Su notepad Più più Diciamo Che ci dà Non lo so Magari cambia I colori Nei simboli Che scriviamo Se ad esempio Scriviamo In html E noi Andiamo a dire Che scriviamo In html Lui magari Lo setterà Proprio Come html E noi Lo settiamo Qui Come html E lui Tra virgolette Lo capisce Se lo dovremmo Scrivere In qualsiasi Altro tipo Di linguaggio Non so Ad esempio Come java Stessa cosa O Qualsiasi Altro Linguaggio Di programmazione Anche se In realtà Lui lo capisce In automatico Perché Quando tu Dai un file E apri un file Che è Che ha un'estensione L'avevamo vista Nella scorsa lezione Che cos'è un'estensione E vede Che l'estensione È html Lui già In automatico Apre Come se Tu stessi Lavorando In html Quindi Ti fa Diciamo Ti visualizza In modo diverso Quando dichiari Delle parole chiave Ad esempio Come i tag Questa Che ci fa Vedere Come prima Visualizzazione E sono Diciamo I differenti Fix I differenti Modalità Del sistema Quando è stato Aggiornato Ma che a noi Non interessa Come dicevamo È diverso Da Magari Da word Qual è La differenza Di word Vediamo Adesso Come aprire Un file Ad esempio Un file Di tipo Immagine Intanto Apriamo Anche Una Apriamo Anche Word Così vediamo Qual è la differenza No Apriamo Un documento Vuoto E ad esempio Non so Andiamo a Prendere Una Immagine Dal Doposcuola Allora Abbiamo aperto L'immagine Allora Ad esempio Facciamo Non so Copia Con ctrl c Oppure tasto destro Copia Quindi abbiamo Copiato questa Immagine Andiamo Su word E la Incogliamo E come vediamo Lui ci ha messo Un'immagine Quindi Diciamo Word Sta bene Facciamo la stessa Cosa Invece Su notepad E più Apriamo Notepad E più Magari Apriamo Un altro File Tasto destro Vedete che Incolla Non me lo dà Non me lo dà Assolutamente Allora Ah non me lo dà Perché non me lo dà Non so Magari c'è qualche Errore Non lo so Forse Non l'ha Non l'ha Memorizzato Bene Allora Apriamolo Questo file Allora vado Su file Apri file E vado a trovare Questa cartella Doposcuola E all'interno C'è il file Doposcuola Quindi l'immagine Avete l'immagine Ok Vediamo se ce l'apre Come vediamo Non ce l'apre Ma solo caratteri Perché è Un editor Mentre invece Word è Un programma Di videoscrittura Come anche altri programmi Adesso Andiamo Invece A scaricare Un altro Software Quello che Più ci interessa Perché di fatto Notepad Come abbiamo detto Può essere utilizzato Anche con Notepad Semplice Piuttosto che con Notepad E più più Ma ce ne sono anche altri Di editor Per creare Programmi E questo Diciamo È il più facile Il più semplice E quello Diciamo Che per imparare È il migliore Perché Non è troppo avanzato E quindi Per noi Va benissimo Ce ne sono anche altri Atom E quant'altro Ma noi non ci interessano Adesso per noi Notepad Più più È perfetto Andiamo adesso Invece a scaricare L'altro software Ovvero Xamp Allora Ancora prima di Installarlo Però andiamo a vedere Che cos'è Xamp Quindi Xamp L'avevo un po' Spiegato prima Però andiamolo A vedere un po' Meglio Che cos'è Non dico in profondità Perché se no Ci perdiamo Però Tanto per sapere Che cosa fa Vediamo su Wikipedia La versione italiana Diciamo che è un'enciclopedia Abbastanza efficiente Cioè Dice Proprio quello In genere È molto preciso Su tante informazioni In particolare Nell'ambito informatico È molto preciso Sarebbe ancora più preciso Se lo vedeste In inglese È chiaro Ci sono tantissimi software Che sono stati creati In Inghilterra Che sono spiegati In Inghilterra C'è più informazione Perché L'informatica È in inglese Non è in italiano Però Diciamo che Noi adesso Facciamo conto Che non ci interessa L'inglese E quindi La vediamo in italiano Quindi Cosa ci piace XAMPP È una piattaforma Software Multi piattaforma È libera Costituita da Apache HTTP Server E il database MariaDB In realtà Ci sono anche Altre cose Che sono inserite All'interno Di XAMPP Però Quelle che a noi Più interessano Sono proprio queste Apache E il database Strumenti necessari Per l'utilizzo Di linguaggi Di programmazione Come PHP E PER A noi Interessa PHP Anche se Non lo studieremo Però Magari In un prossimo Futuro Ci potrebbe Essere utile Quindi Qual è Ve l'ho detto Come prima Qual è Il vantaggio Di XAMPP Che noi È come se Stessimo lavorando Su un server E Un server È chiaro Che non installiamo XAMPP Cioè Su un server Andrà Installato Passo dopo passo Apache Il database PHP La congiunzione Fra PHP Apache E quant'altro Invece Con XAMPP Lo comprende Tutto In un unico file Installo XAMPP E lui installa Tutti questi Diciamo Sotto software Che già sono collegati Uno fra l'altro Quindi Ci proprio Ci rende la vita Molto più facile E È Inventato E costruito Per gli sviluppatori Così non ho bisogno Di collegarmi Ogni volta Al server Ma lavoro Sul mio computer Quindi come noi faremo Lavoreremo sul nostro computer Con XAMPP Ok Quindi Diciamo che Questo ci basta E andiamo Ci vorrebbe molto di più Come spiegazione Però adesso ci basta E digitiamo Qui in alto Download XAMPP Invio Ok Andiamo su Download XAMPP Il sito come vedete È questo E noi scarichiamo Anche qui L'ultima versione Di XAMPP Intanto Vediamo che XAMPP Va bene Non solo per Windows Cioè quello che io sto utilizzando E quello che Probabilmente state utilizzando Anche voi Ma va bene Anche per altri Sistemi Operativi Quindi Sistemi operativi Che sono Dei software Di base Quindi come Windows Come Linux O come il Mac Noi Stiamo utilizzando Windows Quindi scarichiamo La versione L'ultima Proprio La 7.2 La versione DPHP 7.2.8 E la scarichiamo Come vediamo Qui in basso A sinistra Ci scrive Questo tipo di file Può danneggiare Il computer Conservare Comunque XAMPP Certo Noi sappiamo Che cosa stiamo Scaricando Quindi Certo che Lo conserviamo Quindi Faccio Conserva Ed inizia A scaricare Ok Finito Finito L'aver scaricato XAMPP Andiamolo a prendere Però stavolta A mano Piuttosto che Tramite La La cartella Del browser Quindi Andiamo Magari Su questo pc Io Già so Dove Perché Anche questo Come Notepad Più Sarà Sicuramente Installato All'interno Della cartella Download Che sarà All'interno Del mio Utente Questo pc Disco Locale c Quindi Che è La root Del sistema Per Windows Utenti Perché Ci sono Diversi Utenti Qui c'è L'utente Pubblica E io Che sono Admin All'interno Di admin Ci sarà Download Come vedete Qui ci sono Diverse Diciamo Diverse Immagini Ma sono Scartelle Sono Semplicemente Delle cartelle Ovvero Un file Che contiene Altri file Quindi vado All'interno Di download E cerchiamo Il nostro Xamp Eccolo qui Xamp Anche qui Tasto destro Esegui come Amministratore Come prima A meno che Non ce l'avete voi I diritti Di installare Chiedete Al titolare Del computer Oppure Chiedete ai vostri genitori Esegui come Amministratore Ok Ci da questo Avviso Importante Dato che C'è un'attivazione Di user Account Control Lui in realtà Non lo sa Se è attivato O no Però lui Ci avverte Che potrebbe Essere Attivato User Account Control Sul mio Sistema Ad esempio E funzioni Come ad esempio Xamp Potrebbero Essere Ristrette Potrebbero Vedere Restrizioni E questo E' chiaro Che lui Lo mette Perché Lo mette E' chiaro Che la maggior Parte Delle persone Che utilizzano Questi Linguaggi Di programma Questi Sistemi Operativi Magari Non sono Degli esperti Quindi è giusto Che sia così Ovvero L'UH Ti dà Delle limitazioni Quando tu Stai scaricando Dei software Stai installando Delle cose O stai prendendo Delle cose Da internet E' molto Importante Questo Perché Potrebbero Eserci Dei pericoli Se non si è Abbastanza Esperti Per sapere Questo Oppure Se non si è Dei programmatori Perché Un programmatore E' chiaro Che non solo Sa come funziona Il linguaggio Di programmazione Ma conosce Abbastanza bene Internet E sa come Muoversi Ma la maggior parte Delle persone No Quindi è giustissimo Che ci siano Questi limiti Allora Per poter Utilizzare Questo software XAMP E' Diciamo E' doveroso Per noi Limitare Cioè Poter togliere Queste limitazioni Perché noi Lo dobbiamo Utilizzare In maniera Piena Esclusiva E dobbiamo Poter gestire Bene Il nostro Software Quindi è importante Che noi Come scrive Alla fine Di questo avviso Deactivate UAC With MS Config After this Setup Ovvero Una volta Che noi Abbiamo finito L'installazione Lo dobbiamo Disattivare Io Lo disattivo Subito E tanto Lui non fa Un controllo Del genere Perché in realtà Non lo vedremo Mentre lo installa Ma lo vedremo Dopo Quando andiamo A programmare Lo apriamo Lui si blocca Perché non L'abbiamo tolto Questi limiti Io direi di andare Sul pannello Di controllo Io ho un'icona Qui Sul mio desktop Oppure posso andare Qui e digitare Pannello Lui me lo trovo Subito E apro Il pannello Di controllo Ok me l'ho aperto Come io ce l'ho Di solito Però in genere Voi di solito Lo avete In questo modo Però io Siccome devo andare A trovare Un particolare Una particolare Cartella E siccome a me Piace anche più Così Icone piccole E vado su Account utente In account utente Come vedete Trovo Modifica Le impostazioni Di controllo Di account utente O UAC Entro qui Allora voi Probabilmente Io L'ho già Disattivato Però voi Probabilmente Ce l'avete In questo modo Qui vi dà Delle informazioni Su ogni livello Nel quale mettete Diciamo La tabella Voi ce l'avete In questo Io vi consiglio Di metterlo Proprio Alla fine Quindi Come vedete Scritto Non notificare Mai All'utente Quando Un'app Tenta Di installare Software O di seguire Modifiche Nel computer Oppure L'utente Modifica Le impostazioni Di Windows Cioè quindi Ci rende Molto più liberi L'utilizzo Di questo Sistema operativo Di questo Software Di base Ok Un'altra cosa Che vi consiglio Di fare Ok Quando utilizzate XAMP Disabilitate Tutto Però Poi dopo Quando Non ci dovete Più lavorare Ritornate Nello WAC E rimettetelo Qui Perché potrebbe Essere Sempre più Siguro E Anche per Non incorrere Particolari Problemi Quando magari Si va a scaricare Qualche software Su internet Quando è attivato Siete molto Ma molto più Sicuri Quindi io ve lo consiglio Ovviamente Lo disabilitate Quando lavorate Su XAMP Quando non ci lavorate Più Riabilitatelo Perché è una buona Norma Averlo sempre Attivo Ok Chiudo il pannello Di controllo E vado avanti Ok Welcome To the XAMP Setup Wizard Adesso Installiamo Il nostro software Andiamo avanti Qui Ci dice Tutto quello Che lui installa Sul nostro computer Allora A noi Quello che più Ci interessa Sono Apache MySQL E PHP Quindi Tomcat Non ci serve Che è sempre Un altro tipo Di web server Ma non è per PHP O HTML Ma è per Java E a noi Non ci interessa Ci interessa Mercury MyServer Pure E FileZilla L'FDP Però Lato server Uguale Togliamolo Anche per i linguaggi Di programmazione Togliamo Perl Io non dico Che non lo dovete Usare O utilizzare Però Perl È abbastanza Articolato È Un linguaggio Molto vecchio È un linguaggio Che funziona parecchio Su internet È un linguaggio Che prima Non so oggi Ma prima Veniva usato Da chi faceva Hiking Chi voleva Attaccare Un altro computer Utilizzava Perle Perché È molto Compatto È veloce Non richiede Troppa Diciamo Troppi meccanismi Particolari Ed è Utilissimo Su internet Per chi Vuole fare Di determinate cose Ma Credo che a noi Non interessi questo E anche perché Imparare Perl Non è facile Non è uguale A un altro Linguaggio Di programmazione Bisogna studiarlo A parte il fatto Che bisogna studiare Tutto comunque Per conoscere Ogni dettaglio Di questo Che voi Leggete Però Anche Perl Non è facile E è differente Da altri linguaggi Questo ve lo garantisco Lo conosco Banalmente Ma non è facile Poi Fakes Fakes Sendmail Non ci serve E Webalyzer Non ci serve Perché In effetti Webalyzer Non fa Nient'altro Che Creare delle Statistiche Per il vostro Sito web Cioè Quando create un sito web E lui create le statistiche Ma a noi Non ci serve Perché noi Per il momento Lo creiamo Sul nostro computer Non sarà In remoto Cioè Non sarà In rete Su internet Ma sarà Sul nostro computer Quindi questo A noi Non ci serve PHP MyAdmin Invece Lo lascio Abilitato Perché Ci dà La possibilità Di poter Gestire MySQL Ma in maniera Molto più facile Perché MySQL Gestito Da riga di comando Non è banale Non è facile Quindi Lo lasciamo Abilitato So anche Che inizialmente Non lo utilizzeremo Cioè Questo magari Sarà una cosa Che è molto più avanti Di quello Che noi dobbiamo fare Però ci potrà essere In futuro Andiamo avanti Next Io lo lascerei Qui Per me è installato Da c Due punti Backslash Quindi La root Di windows Backslash Sarebbe Questo Slash Come vedete Slash Se me lo vedete È questo Il back Slap E back È indietro Infatti Sarebbe lo slash Al contrario Questo Quindi C due punti Backslash È la root Di windows Xamp È una cartella Che sta creando A seguito Della root Di windows Andiamo avanti Next Queste immagini Che vedete Come tante altre Sono dei cms Che ci servono Per creare Dei siti web Pur non conoscendo Quello che noi Andremo a studiare Cioè Pur non conoscendo HTML Pur non conoscendo PHP E quant'altro Però potremmo Creare dei siti web Questo qui È wordpress Drupal E yumla Sono gratuiti Si possono installare Molto più facile Creare un sito web Sicuramente è facilissimo Però Noi non vogliamo fare questo Noi vogliamo conoscere I dettagli Perché se io conosco I dettagli Poi a prescindere Di quale cms Io utilizzo Io già ci so Mettere le mani Perché conosco Il linguaggio Se Il linguaggio HTML CSS Javascript PHP Non li conosco È chiaro che Quando ho imparato A utilizzare Wordpress Poi dopo Devo andare a lavorare Su Drupal Mi trovo scomodo Non so bene Cosa devo fare Perché sono differenti La stessa cosa Se poi passo a yumla Sono differenti Se invece Se invece voi partite Dalla base Come io voglio Che voi facciate Ovvero Iniziate dalla base A prescindere Le cms Che utilizzate Avete una dimestichezza Maggiore Quindi li conoscete Tutti Principalmente E poi Se ne dovete utilizzare Uno Vi studiate Solo quello Però già sapete Cosa fare Poi qui ci scrive Learn more about Bitnami For Example A noi non ci serve Cioè sarebbe Ci dà delle informazioni Riguardo Bitnami Dopo che abbiamo installato Xample A noi non interessa A noi basta Che ce lo install Andiamo avanti Ready to install Sei pronto per l'installazione Siamo tutti tutti Vai E inizia l'installazione Di Xample Ci metterà Qualche minuto Ve lo dico subito Io fra poco Quando sarà finita L'installazione Passo direttamente lì Però per voi Ci vorrà qualche minuto Come per me pure Ok bene Siamo arrivati Alla fine Dell'installazione Di Xample Ci dà delle altre Informazioni Setups As finished Installing Xample On your computer Do you want to start The control panel now? Sì Lasciamolo fregato Perché vogliamo vedere Il pannello di controllo È di Xample Quindi finish Ci dice In che lingua Lo vogliamo vedere Ovviamente Ragazzi Lo so Vi sarà Noiosa Però Chi non conosce Non dico bene Ma mediamente bene L'inglese Lo dovrà imparare O almeno Chi non conosce Il tedesco Allora non lo so Però Comunque vi sarà inutile Perché L'informatica Nell'informatica L'inglese È la lingua principale In Germania Non so se avete Esperienze Io ce l'ho E in Germania Per quanto si parli Il tedesco Ma in realtà In Germania Sanno tutti L'inglese Cioè se tu vai in Germania Non hai bisogno Di conoscere Il tedesco Basta che sai L'inglese Ma non solo In ambito informatico In quasi tutti Gli ambiti Lavorativi La prima lingua È l'inglese Allora non importa Che tu sei il tedesco O no A differenza Diciamo Dell'Italia Che invece Diciamo L'inglese È usato Però se vai a lavorare Comunque Devi conoscere l'italiano Ok Lo salviamo Come Flegando Inglese O americano In questo caso Che è un Restato Replication To apply Chains Ok Perfetto Adesso abbiamo Il pannello Di controllo Ok Per il momento Non lo Non facciamo partire Niente Perché Lo vedremo Fra due Lezioni Adesso Spiego qualche Altro dettaglio Poi vi spiego Dopo cosa faremo Nella prossima lezione E fra due lezioni Intanto Questo lo chiudo Iconizzo Iconizzo E come vediamo Qui XAMPP Non ci ha dato La possibilità Di inserire Un'icona Come ha fatto Notepad E non l'ha messo Quindi noi Di fatto Non sappiamo Dove andarlo A trovare Allora Noi ce la creiamo L'icona Di XAMPP Ad esempio Andiamo In questo pc Sappiamo Dove è stato installato Perché è stato installato Subito dopo La cartella Root Quindi la cartella Scusatemi Subito dopo La root O la radice Di windows Che è c due punti XAMPP Ok Andiamo a vedere Andiamo un po' In basso E come vediamo C'è proprio XAMPP Control Ok Allora Dato che noi Lo vogliamo Sul Desktop Possiamo digitare Con il tasto destro Invia A E lui Creerà Un collegamento Desktop Crea Collegamento Perfetto A noi Il collegamento Ci sta bene Chiudiamolo E come vediamo Ci ha creato Il collegamento Intanto direi Vedo che ha scritto Troppe cose Che a noi Non ci piacciono Allora noi Proprio Con il tasto destro Rinomina E scrive Allora XAMPP 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 Aspettate che ci Riarrivo Un'altra volta Quando io Clicco Sulla mia Icona Del Desktop Lui fa partire Questo Perché qui Non ci ha installato Niente Infatti come vedete C'è una piccola Freccetta Proprio in basso A sinistra E ci indica Che questo Non è Un esecutivo Ma è solo Un collegamento Cioè si collega A quel Software Di applicazione Cioè quello Che lo fa partire Veramente Realmente Perché è proprio Un XE I file .XE O I file .MSI Servono Per far partire I software In Microsoft Ah come vedete Adesso vedo Le estensioni Io non so se Già l'altra volta L'avevate visto Però Chiaramente Per vedere Le estensioni Andiamo in alto Visualizza E qui c'è scritto Estensione Nome file Se lo tolgo Ad esempio Lui non ci fa vedere Il punto XE Quindi noi non lo vediamo Ma noi che siamo Programmatori Quindi noi le dobbiamo Vedere queste cose Quindi Lo andremo A fleggare Qui Così vediamo La sua estensione Ok bene Per il momento È tutto Nella prossima Lezione Io andrò A spiegare Diciamo Un po' Meglio Che cos'è Un database Non in profondità Perché il database È un mondo Non è Semplice Pensate che ci sono Dei sistemisti Cioè delle persone Che lavorano Solo ed esclusivamente Sui database Cioè capite cosa intendo Non è Una banalità Niente In informatica È una banalità Compreso il database Però quello che a noi Ci serve sapere Visto che noi Non siamo Non siamo Dei gestori È saperlo Utilizzare ma poco Quel poco Che ci basta E sapere che cos'è Cioè che cosa è Un database Quello per noi È importante Poi Nella lezione successiva E non nella prossima Perché ci vorrà un po' Di tempo Per spiegare il database Spiegheremo Come funziona XAMPP E da lì Vedremo come farlo partire Come stopparlo Come aprire i file E come fare delle modifiche Ok per il momento È tutto Ci vediamo al prossimo Tutorio